Grande maestro di recitazione, dalla sua scuola sono usciti attori preparati e deficienti Ma come deficienti? Preparati ed virgola posto efficienti Con due F però Efficienti Adesso anche a lei devo fare il pedigree Come ho fatto a lui De che razza so Nome? Gigi Gigi viene da Luigi, da Giacomo, da Veronica, Miriam, viene da? Da Cosimo Cosimo, da Cosimo Cognome? Vedi tu Un cognome romano di tante degenerazioni Non abbiamo fatto altro che degenerare I don't